per fare una specie di riassunto di tutte queste opzioni ho preparato un paio di tool prima e vi mostro più o meno come possono essere usati allora sono partito da pencil soft e ho fatto una piccola modifica ottenendo qualcosa più simile a una vera matita come vedete ho un materiale pensi dot eccolo qua bloccato quindi ho cambiato il materiale di default e ho semplicemente caricato una texture si tratta di questa texture quindi un po puntinata è trasparente un png trasparente e se vado a scegliere anche magari un grigio un po più chiaro rispetto al nero usando la modalità colore e non la modalità di materiale posso avere qualcosa che somiglia di più una matita l'unica cosa qui è aver inserito questo brush pencil e blend a 1 in maniera che prenda il colore previsto ho fatto anche delle modifiche a un marker e ho ottenuto due specie di diciamo acquarelli il primo water color one è legato al materiale wc1 vediamo di prendere un colore e questo da l'idea di un pennello ad acquarello il trucco anche qui sta nella texture che è caricata per il pennello ma in questo caso il tipo di linea è line quindi rispetto al materiale di prima che era dots questo è line e quindi la texture si allunga lungo il pennello la texture è questa di nuovo trasparente e ho anche messo la pressione se la disabilito il segno rimane posso allungare a 2000 per esempio e così la pennellata può essere più lunga ho anche preparato un altro in maniera molto simile con un tipo di texture diversa questa lo sfondo è scuro però sono tutte delle texture trasparenti in nero su trasparente e l'effetto di questa quindi è più leggero magari se prendessi un colore scuro si nota un po di più ecco e anche qui ovviamente il materiale wc2 a questa texture ed è possibile con questo uv factor cambiare eventualmente la lunghezza e vediamo un pochettino come può essere usato quindi prendo questa matita particolare che ho fatto magari posso anche proprio prendere come dicevamo un grigio un po più chiaro e su un livello come lines comincio ad abbozzare qualcosa cerco di fare un disegno rapidamente come vedete è uno strumento che mi dà un po più di sensazione di matita ovviamente sono io ognuno ha i propri gusti può andare a costruirsi i materiali come come meglio preferisce insomma adesso per esempio potrebbe essere appunto il lo schizzo come ho fatto altre volte lo abbasso crea un nuovo disegno e posso andare a rifinire il posso nascondere adesso anche il livello di costruzione io ovviamente sono stato molto veloce come al solito cerco di darvi degli esempi però vedete questo potrebbe essere un disegno a matita ora su un nuovo livello lo abbasso per il colore e un proviamo usare un altro di questi strumenti appunto water color 2 prendo un colore forse un po troppo brillante lo abbasso un pochettino aumento ancora di più il raggio vediamo che effetto fa ok notate anche che ho attivato alcune delle opzioni di casualità su you saturation velu vedete appena appena e quindi i vari colpetti a di colore hanno dei toni diversi adesso con una strength più bassa vado ad aggiungere un pochettino quaggiù sto andando più o meno a caso insomma però come vedete anche l'uso di strength mi può permettere di rinforzare un po' di più alcune zone ecco ora posso usarlo anche per l'acqua magari metto una base qui un po' troppo piccolo perché non perché si noti la texture del pennello ecco metto qua una base poi posso provare con l'altro pennello e di nuovo si abbassiamo strength qui attivo la dimensione del pennello grazie 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 ecco qui disegno stile acquerellato potrei anche nel word andare a cambiare leggermente il colore del word in maniera di farlo sembrare più a carta basso un pochino a saturno per esempio questo potrebbe essere un disegno che non ci aspetteremo per forza da un programma vettoriale e qui potrei inserire la mia animazione io adesso l'ho fatto tutto su un livello immaginatelo come abbiamo visto di separarlo per esempio primo piano fondo e di poter quindi muovere la telecamera ma una cosa che può essere velocemente è fatta per dargli un po' di movimento e usare un particolare modifier che si chiama noise metto dei valori molto bassi 0.05 faccio play vedete il segno si muove leggermente già così può aver preso un minimo di dinamicità mentre va l'animazione io posso fin da subito provare dei valori molto diversi e vedere l'effetto che fa in diretta ecco questo è un piccolo esempio di un disegno diverso da quello che ci si potrebbe aspettare da un programma vettoriale e ovviamente è un disegno in 3d quindi è qui se come ho detto l'avessimo separato nelle sue nelle sue componenti potrei adesso muovere facilmente la telecamera e fare altre animazioni potete ovviamente animare qualsiasi cosa potremmo anche fare un'animazione di questo tipo all'inizio a opacità 0 e premo i dopo al quarantesimo fotogramma l'opacità del disegno è andata a 1 premo di nuovo i e in questo momento è a 0 riattivo questi metto a 0 l'opacità sia di riflessi che di colore e premo i e premo i e poi al fotogramma 120 faccio in modo che il colore abbia opacità 1 premo i e i riflessi invece li tengo ancora a 0 quindi i e li comincio a far nascere qui e magari finiscono a 160 e nascono i e adesso faccio 160 come valore finale vediamo adesso il disegno pian piano appare la matita e poi appaiono i colori e appaiono anche i riflessi alla fine quindi questo è una cosa molto banale ma ricordatevi che potete animare qualsiasi cosa voleva essere un esempio ho usato tutte le varie possibilità che ci sono in stroke e in advanced niente che non avessimo già visto le texture e tutte le possibilità e ho potuto ottenere questo tipo di disegno vi invito quindi a esplorare molto la parte di personalizzazione degli strumenti perché si può ottenere davvero davvero molto grazie e alla prossima